Buongiorno e benvenuti a questa rassegna stampa di oggi domenica 16 settembre. Vi ricordo che domani sera alle 21.30 su Rete4, quindi non su Canale5, ci sarà la prima puntata di Quarta Repubblica, il talk show che raccolterà politica ed economia in modo semplice. Cerchiamo di fare una zuppa di porro, anche se meno schierata con meno parolacce, meno partigiana, cioè meno mia purtroppo, anche a Rete4. Quali sono le notizie di oggi? Ve le dico subito. Innanzitutto il decreto su Genova, che è stato fatto dal Consiglio dei Ministri nei giorni scorsi, sono passati due giorni dal decreto su Genova e il titolo, indovinate un po' voi qual è il titolo del Corriere della Sera? Qual è il titolo del Corriere della Sera sulla vicenda? Ve lo dico subito, maggioranza divisa. Eh ma non è possibile! Sicuramente la maggioranza è divisa, siamo sicuri al 100% che essa non sia così compatta. Ma insomma, in realtà bisognerebbe dire ai titolisti di Cairo di trovare ogni tanto qualche idea diversa su questa maggioranza, che è sempre e comunque divisa. Io lo trovo fantastico. Poi in realtà ci sono delle indiscrizioni che non riguardano tanto il Ponto di Genova, ma sul Corriere della Sera e il Ministro della Giustizia Bonafede, che danno il senso di diverse sensibilità, se uno fosse molto filo populista potrebbe dire. Bonafede, di fatti dice è contrario agli attacchi di Salvini contro la magistratura, cosa che in realtà lui ha detto anche in maniera molto esplicita, quindi lì bisogna giocare. Sono diverse sensibilità all'interno di un governo o è questa maggioranza perennemente divisa? Insomma, per un'Italia che si è contraddistinta per un pentapartito che era fatto da 5 partiti, che metteva insieme i liberali, i democristiani e i socialisti, per un'Italia che ha visto maggioranze di governo in cui c'erano D'Alema e Renzi, diciamola così, insomma le diverse componenti dell'ex PC e della democrazia cristiana, per maggioranze di governo che vedevano Prodi e Bertinotti, che di fatti caddero, per maggioranze di governo che vedevano Berlusconi che aveva messo insieme Bossi e Fini, che fecero anche la cosiddetta legge Bossi e Fini, insomma io direi che è una costante che i governi siano divisi, le maggioranze siano divisi, il tema fondamentale è quanto questi campano. Ma un po' sul decreto di Genova ci sono delle sensibilità diverse, mettiamola così perché siamo un po' democristiani oggi. Salvini dice in un retroscena del Corriere della Sera ma perché devo votare un decreto che mi è stato comunicato all'ultimo istante e di cui non ho nessuna contezza? Pare che anche questo sia stato il ragionamento addirittura del Ministero delle Infrastrutture, del Ministero delle Infrastrutture Toninelli, perché è un decreto fortemente voluto da Conte che si doveva presentare a Genova con un decreto già fatto. Allora mi chiedo, ma Conte è quello che non contava nulla, che poi si fa fare i decreti che i ministri non contano? Beh, insomma è un paradosso dei paradossi. La cosa più interessante di oggi è forse l'intervista al Vice Ministro, al Sottosegretario delle Infrastrutture che si chiama Rixi, è genovese ed è leghista, perché qui in realtà ci sono davvero molte notiziole piccole di dettaglio, perché ormai sono passati 30 giorni dal crollo del ponte, e dice Rixi, ragazzi andiamo avanti con la demolizione, perché se non facciamo la demolizione non si fa più nulla, ha detto aspettiamo, e se non diciamo che la vogliamo, la procura non ci libererà mai questo ponte per poter iniziare non solo a demolire, ma poi a ricostruire. L'intervista di Rixi mi sembra sia oggi sul Vosaggero, e l'altra cosa che dice il Sottosegretario in maniera molto ragionevole è guardate che stiamo perdendo traffico sul porto, che ricordiamoci porto di Genova essere il porto principale d'Italia. Intervista inutile all'amministratore delegato dell'ANAS, che si chiama Armani, io l'ho incontrato una volta lì da lui, mi sembra una persona seria, mi sembra una persona ragionevole, ma l'intervista di oggi è del tutto inutile, tant'è che la titolano solo un piccolo dettaglio dell'intervista, pronti a prendere nuove tratte di autostrada, è come se dicessero a Porro, pronto a Porro a prendere nuovi programmi televisivi, è il mio mestiere, insomma, se me li offrono ci sto. Ho dato però, e questa è la notizia, ho dato a Toninelli, che è il suo ministro di riferimento, ho dato le mie dimissioni, non ho dato le dimissioni, ho dato la disponibilità alle mie dimissioni, e non mi hanno fatto sapere nulla. Intervista all'amministratore delegato dell'ANAS, che dovrebbe gestire le autostrade nazionalizzate, come in un primo tempo Grillo, Toninelli e Di Maio ci avevano detto, è oggi su Repubblica. Intanto si chiudono altri punti, per precauzione, quello delle ferrovie dello Stato sull'Adda, che lega le province di Lecco, Bergamo e Monza, cioè le province, le zone industriali più importanti di questo paese, costruito, pensate un po' voi, nel 1887, è già a metà regime questo ponte sull'Adda, che riguarda una delle zone, insiste su una delle zone più importanti di questo paese, tutti i dettagli su quello che vuol dire economicamente questo ponte, sul Sole 24 Ore di oggi. Due, i commenti generali, diciamo, di politologia, che non ci possono mai mancare, insieme alla predica di Scalfari, che ho rinunciato a leggere, perché mi sono fatto due palle così per anni nel leggerle, sono Galli della loggia, che sto per abbandonare, e Marco Tarchi, sul fatto. Galli della loggia dice la seguente cosa, viene messo come spalline, in realtà oggi Galli della loggia, e dice, ogni volta che la sinistra deve suicidarsi, la sinistra stessa sa che può contare sugli intellettuali della sua parte, che armano con un proiettile la canna del fucile, in cui la sinistra si ammazza. Sostanzialmente, questa è una critica rivolta da Galli della loggia, un pezzo che nessuno di noi ha letto, e io non vi ho fornito, di questo Montanari, sul fatto, che parla della inesistenza dell'identità italiana. Pippe, diciamo, ideologiche, che raccontano l'Ottocento. Galli della loggia, Montanari, il Corriere della Sera, sono fermi all'Ottocento. Anche Marco Tarchi, sul fatto, è fermo all'Ottocento, ma almeno ragiona su un fenomeno del prossimo millennio, cioè del populismo. Quello ancora sta parlando dell'identità degli italiani, della sinistra, di quello che non esiste mai più, che nessuno di noi legge, che non ce ne fotte nulla. Leggetevi, oggi l'ho recensito sul giornale, ma non leggetevi le mie recensioni, leggetevi il libro, come si chiama? Bassa, me l'ha considerato l'altro giorno a cena, una persona molto intelligente, l'ho letto ed è impressionante, si chiama Bassa Risoluzione, che è un libro di un italiano che racconta l'attitudine degli italiani, ma non solo del nuovo mondo digitale, ad avere le cose a bassa risoluzione. Spero che non sia questa zuppa così a bassa risoluzione. E poi leggetevi anche Marco Tarchi, quando sul fatto dice, ragazzi, gli insulti inutili ai leader populisti non servono, gli danno una mano. Oggi Salvini, in un retroscena su Mi Sembra il Messaggero, dice, più mi insultano, più guadagno consensi. Con dono fiscale, beh, cambiano le carte in tavola, perché pare che arrivi fino a un milione di euro. Poi diranno, beh, non ci sono i grandi evasori. Ma ragazzi, non ci prendete per il culo! Un milione di euro come condono fiscale anche per le multe! Siamo là, tipo, Ola! Tutti a festeggiare. Mi rode soltanto che io ho appena pagato 187 di rateizzazione per le mie multe del passato. Se ci avessi pensato un po' di più, avrei fatto il condono fiscale, che loro non chiamano condono fiscale. Certo, avrei potuto non pagare quelle precedenti, ma il condono fiscale non è una prerogativa di questa centrodestra, una prerogativa di questo Gialli Verbia, del centrodestra, del centrodestra, l'hanno fatto tutti per recuperare quattrini in questo paese, si fa il condono fiscale e il giorno dopo l'opposizione dirà mai più condono fiscale e quando l'opposizione andrà al governo che ci sarà? Il condono fiscale! E chi ci guadagna? Chi non crede alle cazzate che raccontano i politici. Chiaro, purtroppo è così, populisti o non populisti. Comunque, il condono fiscale fino a un milione di euro è quello che ci vuole, bene, andiamo avanti. In realtà faremo prima a fare meno aliquote, meno sanzioni, meno controlli ex post, meno rotture di coglioni burocratiche e meno condoni dopo, no? Altra idea geniale oggi la trovi su Corriere della Sela, la rinazionalizzazione dell'Italia, si farà una nuova compagnia, una nuova società, si chiama NUCO e chi entra nella nuova società che controlla l'Italia? Le poste e le ferrovie dello Stato. Bravi! Questa è la soluzione per l'Italia. Cioè, riusciamo? Sempre la solita tiritera, bravo porro, dice Ivan, non so quale sia, se la mia o il condono, per pagare o per morire c'è sempre tempo, c'è il giorno Giuseppe, questa era una vecchia detto italiano che forse vale tutta la vita. L'Italia pubblica, complimenti, questa è un'idea geniale, non ci aveva pensato nessuno, Berlusconi, Prodi, tutti ci hanno pensato a fare la nazionalizzazione dell'Italia, il punto fondamentale è che l'Italia oggi è molto meglio che nel passato, parlo della gente che lavora il front office, quelli che trovate sugli aerei, i piloti, la puntualità è molto migliore, provate a vedere come funziona il back office, il sistema informatico, il sito dell'Italia, il travel pass, tutte robe che non funzionano, quindi si può migliorare e sicuramente la miglioreranno, ma si migliora con le poste? La si migliora con le foroie dello Stato? E chi comanda? E chi decide? E chi sanziona? E chi si assume? No, meglio la nazionalizzazione. Bene, la storia di Gaetano Entrieri è stupenda perché oggi ce l'ha il fatto, dentro il, da una parte, Travaglio fa il moralista dice, no, ma non doveva fare il presidente della Conso, beh, non c'è nulla di male nella nostra campagna contro Nava, presidente di un'autorità indipendente perché era incompatibile con il suo ruolo di membro della Commissione Europea, di funzionario della Commissione Europea. Cavolo, tremendo questo Nava deve essere. Nel frattempo, però, lo stesso fatto, intervista Gaetano Entrieri che è stato condannato ed è il maggiore consulente di Toninelli su questi tre dossier, perché lo dice lui, all'Italia, l'aereo di Renzi e le irregolarità nel bilancio dell'ANAS, cioè stiamo parlando Vicendi di Universo, bene, nel giornale dei moralisti il controllore dei bilanci ANAS e dell'Alitalia chi è? Un condannato per bancarotta fraudolenta. Ma cazzo, ma Banco Forza Italia, anzi, solo Forza Italia avrebbe avuto la forza di avere Gaetano Entrieri come suo consulente al Ministero. Diciamo le cose come stanno. Qua ci sarà il solito cazzone che dirà ce l'hai contro questo governo? No, non ce l'ho contro questo governo, io ce l'ho contro l'ipocrisia. Ci avete spiegato tante balle l'idea che ci sia un condannato per bancarotta fraudolenta e per di più per una compagnia aerea che fa un'intervista al fatto il quotidiano dei moralisti e che ci dice che lui fa bene a stare, a fare, a seguire i dossier sugli abusi di bilancio dell'ANAS, abbiate pazienza, allora ci potete raccontare pure Babbo Natale e che non siamo andati sulla luna. Io lo trovo una cosa pazzesca, sentenza per bancarotta fraudolenta. Sia chiaro, per come la penso io, va benissimo, cioè probabilmente quella è una sentenza su una questione formale, non come lui cerca di spiegare, va benissimo, ma allora non fate cazzo di moralisti. Il centrodestra ha una svolta, perché stasera vedranno, secondo i giornali, Milan, il Milan verrà visto a casa di Berlusconi da Salvini e da Berlusconi e si vedranno il Milan ad Arcore, pizza con le cipolle e birra ce li vedo là ad Arcore. Per il giornale centrodestra ha una svolta, insomma, la solita scena a casa di Berlusca. Match sulla Rennes, sulla Rai, titola il messaggero perché si devono mettere d'accordo su Foa, lo capiremo nei prossimi giorni, invece Repubblica vertice con Salvini ad Arcore, imbarazzo del Movimento 5 Stelle, da una parte il Movimento 5 Stelle e Repubblica gli fa un culo così e dall'altra però ne conosce anche i segreti umori perché oggi sarebbe in imbarazzo per questo vertice ad Arcore in cui ci sarà Salvini, il Milan, il piccolo televisore col tupo catodico e tutti saranno lì nello sgabuzzino a guardarsi il Milan. Ma quale Foa! Ciao! Domani 21.30 parte Quarta Repubblica e fra due settimane parte Matrix. Chi ci molla? è un cornuto. Ciao!